Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati anche agli ascoltatori del podcast. Oggi l'argomento della settimana è un argomento molto caldo, una cosa che a me piace molto perché ti dà proprio quel senso di bike porn. Quando lo indossi, un casco aerodinamico, ti senti più aerodinamico, ti senti più veloce. E non vedevo l'ora di parlarvene e oggi andiamo a parlare di caschi aerodinamici. Soprattutto perché POC ha commercializzato il suo nuovo casco aerodinamico che vi avevo già accennato in una puntata di Pro Cycling Manager. Ma prima di andare a parlare di questi caschi di nuova generazione, questi caschi nuovi molto aerodinamici, andiamo un po' indietro nel tempo quando si sono visti i primi caschi aero in gruppo. Traslasciando il casco da cronometro, che anche quello potrebbe essere un capitolo a parte perché i vecchi caschi a crono avevano delle punte lunghe, non erano studiati in Galleria del Vento perché al tempo la Galleria del Vento non si usava nel mondo del ciclismo, parliamo dei classici caschi che si utilizzano nelle gare di tutti i giorni. Caschi che si sono evoluti sempre di più, prima di tutto sono diventati sempre più sicuri, hanno diverse tecnologie che ti vanno a proteggere in caso di caduta, in caso di urti molto forti, ma anche quello ci arriviamo dopo e lo andiamo ad accennare, perché oggi parliamo più dell'aerodinamica, di tutta la tecnologia che c'è dietro ai caschi. Da quello che ho sempre visto io, all'incirca fino al 2010-2011, si sono sempre utilizzati caschi areati. Il casco areato che è una cosa comunque attuale, una cosa che si usa tuttora e continuerà ad esserci perché il casco comunque deve essere comodo, soprattutto d'estate non dobbiamo sudare troppo e quindi i caschi areati ci devono essere, ma anche i caschi areati che troviamo attualmente in commercio sono studiati in galleria del vento e seppur ti fanno sentire comodo, ti fanno sentire fresco quando serve, sono comunque aerodinamici. Ritornando ai primi caschi aero, io ho un ricordo del mondiale che ha vinto Cavendish, ormai nel lontano 2011, che ha portato un qualcosa di nuovo. L'abbiamo visto intanto correre con un body che al tempo non era una cosa normale, seppur adesso lo è, addirittura adesso si vedono i pro che utilizzano il body da crono, che è quello più aerodinamico nelle gare su strada, al tempo Cavendish è stato il primo a portare questa cosa in gruppo, ma oltre al body ha utilizzato un casco tutto ricoperto. Era il vecchio Specialized Prevail, di prima generazione, attualmente siamo alla terza. Il casco era il classico areato che utilizzavano tutti, però lo aveva ricoperto con una certa pellicola, e quella pellicola l'ha reso più aerodinamico. Da là poi i marchi hanno iniziato o a creare dei caschi tipo scodella, chiusi, completamente chiusi, oppure hanno cercato di mettere delle coperture attorno ai propri caschi. E secondo me questa è stata la prima generazione di caschi aerodinamici, e da là poi è iniziato sicuramente un certo studio sul casco, e si è notato che qualche watt si risparmiava. Ritorniamo dopo al discorso dei watt, perché i nuovi caschi aerodinamici ti fanno guadagnare davvero tanto, e direi che non può più essere una questione di margina che è in il casco. Ritornando ai primi caschi aerodinamici, i caschi erano praticamente delle scodelle, oppure erano dei rivestimenti. Mi ricordo che anch'io al tempo ero addirittura allievo primo anno, prima gara di stagione, diluviava, pioveva, e ho studiato questo metodo alternativo per evitare di bagnarmi la testa, ma con l'idea di avere un po' di aerodinamica in più, e avevo messo il cellophane attorno al casco. E dava un effetto abbastanza carino. Adesso vi metto, per chi guarda il video, la foto di me, con un caschetto ricoperto col cellophane, che aveva fatto comunque il suo sporco lavoro, perché non mi ero bagnato tanto la testa, e comunque un po' di aerodinamica. qualche watt penso di averlo guadagnato. Dopo questi, però, dopo la prima serie di caschi aerodinamici che abbiamo visto, è arrivata la seconda generazione di caschi aerodinamici. Forse dalle scodelle che avevano prodotto all'inizio, hanno visto che si sudava troppo, faceva troppo caldo, e hanno iniziato a mettere qualche foro nei caschi aerodinamici. Adesso vi faccio vedere il mio casco R14 Decoico, che è un casco aerodinamico, nella parte anteriore ha qualche foro. Questo io direi che è un casco di seconda generazione. Poi nella parte posteriore è chiuso. Se noi pensiamo ad un ciclista che corre, se è in salita, questa è la parte che gli servono i fori, quindi prende l'aria. Se è in pianura, o comunque sta andando forte, la testa l'abbassa e quindi i fori sono quasi ininfluenti e l'aria passa nella parte posteriore. Con lo studio che si è fatto, soprattutto in galleria del vento, si è notata questa cosa. Attualmente, di fatti, tanti marchi producono il loro casco aerodinamico con tanti fori davanti, oppure qualche foro davanti, e nella parte posteriore troviamo il casco che è tutto chiuso. Quindi questa direi che è la seconda generazione di caschi aerodinamici. Poi, ovviamente, non esiste un'era storica che dice prima, seconda, terza generazione. Sono solo cose che mi invento io per andare a spiegarvi un po' questo argomento dei caschi aerodinamici. Perché poi arriviamo alla terza generazione di caschi aerodinamici, che è l'attuale. Io direi che attualmente ci mettiamo anche la seconda perché troviamo tanti caschi di questo tipo. E addirittura questo, l'R14, che io penso di essere stato uno dei primi a prenderlo, ormai sono anni che ce l'ho. Mi trovo molto bene con questo casco. Se volete andare a darci un'occhiata, vi lascio il link qua sotto in descrizione. E vi consiglio di andare a guardare nel mio gruppo ciclismo sconti, perché ogni tanto su Ekoi, soprattutto, escono fuori delle offerte bomba e a poco ve lo riuscite a portare a casa. È un casco molto attuale, perché dopo andiamo a vedere meglio nel dettaglio. Ekoi ha prodotto un nuovo casco aerodinamico, che è l'Ekoi Aerodinamica. Molto bello, perché anche lui è ispirato ai caschi da crono. Terza generazione, i caschi aerodinamici, secondo me sono i caschi ispirati ai caschi da crono. Però ci arriviamo tra poco. E comunque questo è uno dei caschi più utilizzati nel World Tour, perché diverse squadre sono sponsorizzate da Ekoi. E vediamo che è anche il più utilizzato attualmente. Esempio, Mozzato al Giro delle Fianne è arrivato secondo e ha utilizzato questo casco, perché il team Arkea utilizza Ekoi di sponsor. Settimana scorsa, la Frecciavallone, invece che faceva più freddo, forse anche per questo, Volkelen è arrivato secondo e ha utilizzato l'Ekoi Aerodinamica. Secondo me questo è uno dei caschi più ben riusciti della seconda generazione di caschi aerodinamici. Io mi ricordo che quando l'avevo visto al tempo, l'avevo notato proprio perché nella parte anteriore è davvero tanto chiuso. Ha giusto i due fori, uno a destra e uno a sinistra, che servono per far passare l'aria, giusto per non morire. Stessa cosa se giriamo la testa, abbiamo i classici foretti qua dietro. Ma devo dire, secondo me è un casco della madonna. E ritornando a noi, l'alternativa che vi dicevo prima, quello che vediamo anche attualmente, questo è l'altro mio casco che ho appena acquistato, devo ancora provare, in realtà areati, che sono molto areati nella parte anteriore, ma tipo anche Scott lo produce simile con tanti fori davanti, nella parte posteriore invece è tutto chiuso, che quello poi va ad influire per l'aerodinamica. Sicuro l'hanno studiato in Galleria del Vento e se l'hanno fatto così, un motivo ci sarà. Questo invece è un modello aerodinamico, questo ho studiato in Galleria del Vento, difatti come vi accennavo prima, nella parte anteriore troviamo dei fori molto grandi, nella parte posteriore invece troviamo una parte piatta. E più avanti vi dirò anche come mi trovo con questo casco, appena lo provo. Io utilizzo principalmente questi due, perché l'areato lo uso molto d'estate, perché è sudo abbastanza, e soprattutto i mountain bike per i mountain bike. Per i mountain bike fai velocità più basse e sforzi anche di più. Ti puoi trovare a 190 battiti a 5 km reali, quindi per quello un casco aereo non è il massimo. E arriviamo finalmente alla terza generazione di caschi aerodinamici, i caschi che stiamo vedendo. Attualmente fino all'anno scorso erano dei prototipi, ad esempio l'Ecoil aerodinamica che vi accennavo prima, i team che erano sponsorizzati da Ecoil lo utilizzavano un po' griffato per non far vedere le sue forme. A fine anno è uscito fuori il modello, già dal Tour de France dell'anno scorso, e da pochi mesi è in commercio l'Ecoil aerodinamica. Secondo me è uno dei caschi più belli che possiamo trovare. Anche di quello vi lascio qua sotto il link in descrizione, c'è anche la possibilità di andarlo a personalizzare, esce molto molto bello secondo me, se mettete il vostro nome mettete anche la bandiera italiana e oltre all'Ecoil quello che mi ha stupito in realtà di più si è visto da questo inizio anno è il POC. POC che è praticamente un caschetto da crono leggermente modificato per essere utilizzato. Su strada di fatti se andiamo anche nel sito di POC vediamo la spiegazione del casco, c'è proprio scritto che la base del casco è un casco da crono con qualche foro per renderlo più areato e per renderlo utilizzabile in condizioni di gruppo. Di fatti troviamo anche le orecchie che sono coperte, oltre al POC anche casca ha fatto la stessa cosa però non è ancora in commercio quel tipo di casco. Lo vediamo solo su Lineus Granadier che lo utilizza. Oltre a questo possiamo anche non utilizzare più gli occhiali perché ce lo forniscono con delle lenti che sono attaccate direttamente col casco magneticamente ci danno due lenti, quella scura e quella chiara se dovesse piovere quindi follia e le orecchie sono ricoperte sono ricoperte in modo tale che non abbiamo troppo fastidio perché l'aria comunque passa vicino alle orecchie e comunque ci consente di correre in gruppo e riusciamo a sentire comunque tutto quello che dichiara POC e mi ha stupito un botto. Ho visto che addirittura si parla di un guadagno di 5 watt a 30 km rari e un guadagno stimato all'incirca di 20 watt ai 40-50 km rari che è tantissimo esempio quando Betty Hall l'ha utilizzato e vinto la Milano Torino ho usato sia il bodycrono che questo casco il guadagno di watt che si ha in questo caso è molto molto alto e questo è proprio bike porn altri caschi simili oltre alle coie e i casc è lo Sweet Protection che utilizza il Team 1X secondo me è più simile alle coie perché non copre le orecchie e l'argomento della settimana l'abbiamo finito spero che vi sia piaciuto questo approfondimento sui caschi e i caschi aerodinamici soprattutto è arrivata l'ora di passare a mondo gare mondo gare perché nella settimana appena passata abbiamo visto diverse gare soprattutto delle classiche e una classica monumento ma andiamo a vedere cosa è successo prima di tutto alla Frecciavallone Frecciavallone che si è corse a mercoledì se avete visto il video di simulazione della Liege Bastognezi di ProSagri Manager ve ne avevo già parlato ma andiamo a vedere i vincitori in campo femminile a vincere è stata a casa neva doma davanti a Demi Vollering e Alisa Longovorghini per quanto invece riguarda la prova degli uomini prova degli uomini che è stata compromessa dal meteo a metà gara soprattutto è cambiato e diventato folle perché siamo passati da una partenza col sole e a temperature non troppo rigide a metà gara all'incirca quando i corridori erano appena passati per la prima volta nel muro di Guì c'è stata pioggia le temperature si sono abbassate vicino a zero di fatti c'era addirittura un po' di neve e grandine e questa cosa ha tagliato fuori tanti big in primis uno dei miei favoriti di giornata che era Tom Pitcock che secondo me ha pensato un po' anche alla Liege di domenica Irci, Schialmose Schialmose che addirittura è andato in ipotermia ci sono delle immagini molto brutte di lui che non riesce a scendere dalla bici un tifoso l'ha preso e l'ha dovuto spostare cose folli e detto questo gli unici che ho visto a loro agio che erano contenti delle temperature meteo sono stati gli 1X che nel gruppetto davanti che erano in una trentina molto pochi per il tipo di gara e per il livello che c'era la partenza erano addirittura in cinque in gruppo di fatti hanno fatto loro la gara alla fine e di loro poi il loro capitano è stato Johannessen che è arrivato quinto all'arrivo e ha dichiarato che come vi ho accennato prima loro erano anche contenti delle condizioni meteo Team 1X che è un team di danesi norvegliesi quindi nordici che sono abituati a quelle temperature estreme a vincere però è stato Stephen Williams del team Israel che è riuscito a fare una bellissima azione partita in meno 300 metri secondo invece è stato Vauquelin davanti poi a Van Gils e a Benmaa Consrua invece andiamo a vedere la Liegi Bastogliegi in campo femminile a vincere è stata Grace Brown davanti questa volta ancora a Elisa Longoporchini e a Demi Vollering e invece nella prova maschile anche qua vi lascio qua sotto il link del mio sito www.dsscycling.com che vi vado a raccontare cosa è successo anche qua a gara pazza perché meno 100 c'è stata una caduta in testa del gruppo caduta che ha tagliato fuori Van Der Poel ma oltre loro oltre a lui c'erano tanti big nel gruppo dietro tipo Bilbao, Vlasov e molti altri nel mentre però c'era già il team UAE e il team Israel soprattutto davanti a fare un forcing che non si sono minimamente fermati dopo questa caduta caduta che non ha fatto danni per fortuna ma ha praticamente bloccato mezzo gruppo il gruppo posteriore subito ha preso 50 secondi l'unico a tirare è stato vergallito per Van Der Poel e il problema è stato che nessuno gli ha dato subito un cambio quindi da 50 secondi che avevano inizialmente si sono portati ad un minuto e mezzo e là l'azione è diventata interessante perché davanti i UAE avevano la loro tattica e non si sono voluti fermare davanti c'erano comunque altri big e nel mentre poi però all'incirca dopo pochi chilometri Pitco che era nel gruppo davanti ha avuto un problema il problema però è stato che le ammiraglie erano ancora dietro il gruppo di Van Der Poel quindi ha dovuto aspettare sia il gruppo che l'ammiraglia e poi è riuscito a rientrare nel gruppetto dopo che è entrato nel gruppetto ha provato a andarsene via da solo assieme a Van Sevenant e a Tiberi anche là colpo di scena perché quando è arrivato a 40 secondi poteva sfruttare le ammiraglie ma hanno bloccato le ammiraglie quindi si è trovato a rincorrere da solo dietro stessa cosa stava tirando il gruppo con la Bahrain e con la Bora per Vlasov e dopo pochi chilometri forse il direttore di corsa si è accorto che ha cagato un po' fuori dal vaso a bloccare l'ammiraglia quindi l'ha ributtato in mezzo e è riuscito poi Pitco a rientrare senza problemi assieme a Van Sevenant e poco dopo anche Van Der Poel è riuscito a rientrare il gruppetto di Van Der Poel non è rientrato tutto ma solo chi aveva la gamba e quindi si sono ritrovati ai meno 50 in una situazione in gruppo compatto il gruppo compatto sono diciamo pochi quelli che erano rimasti davanti e quindi si sono giocati poi la corsa come vi accennavo nella simulazione di Pro Cycling Manager la Redout era una quote importante una quote dove negli ultimi due anni Remco che l'ha vinta è scattato e ha lasciato tutti là quest'anno Tadej Pogacar ha fatto la stessa cosa ha messo davanti Novak che ha fatto un garone è partito Novak con un ritmo molto alto e poi Pogacar ha staccato tutti di ruota ci ha provato Richard Carapaz a tenerlo ma poi è esploso dopo pochi metri che ha provato a tenerlo da là Pogacar si è messo, ha fatto la sua andatura e ha guadagnato sempre di più fino ad arrivare poi in solitaria davanti dietro si sono messi in quattro di inseguire in quattro c'era Bardet, c'era Consurat, c'era Gregoire e c'era Benili fino ad arrivare all'ultima quote dove Bardet è andato fuori dal gruppo da solo e qua gli altri tre si sono fatti riprendere dal gruppetto gruppetto che poi se l'è giocata in volata all'arrivo con Van Der Poel che è riuscito a cogliere un ottimo terzo posto che ha dichiarato che gli fa ben sperare per il futuro per poter vincere questa classica monumento che gli manca nel suo palmarès altra gara su strada che abbiamo accennato già la settimana scorsa è stato il Tour of Alps Tour of Alps che a vincere è stato Juan Pedro López davanti a Ben O'Connor e a Antonio Tiberi finisce qua il mondo gare per quanto riguarda la strada ma c'è stata anche una prova di Coppa del Mondo di mountain bike siamo ancora in Brasile, ultima prova di Coppa del Mondo in Brasile circuito molto bello da vedere, molto tecnico con tanti ostacoli artificiali in mezzo si è corso lo short track il sabato dove ne le donne a vincere è stata finalmente questa volta Hallibetten davanti a Indergaard e a Blanc invece per gli uomini nello short track hanno ancora dominato gli Specialists in realtà anche Eddie Batten è una Specialists quindi negli uomini a vincere è stato poi Koreski davanti a Blevins e a Utterly Blevins che ha vinto la scorsa prova di Coppa del Mondo sappiamo che un corridore veloce di fatti ha fatto un'azione, una bellissima azione nell'ultimo giro dove si è portato dietro Koreski e hanno poi staccato tutti gli altri e gli ha praticamente servito la vittoria quindi i primi e i secondi per gli Specialists e invece per quanto riguarda la prova di XCO la domenica nelle donne a vincere è stata ancora Hallibetten dopo la prova che ha fatto la scorsa settimana ha fatto vedere che era la più forte si è poi sbriciolata in una curva e ha gestito male ad arrivare seconda è stata Riesfeld e arrivare terza ancora Sevilla Blanc nella prova delle donne si sono viste praticamente le stesse protagoniste davanti in tutte e due le prove che abbiamo visto e invece per quanto riguarda gli uomini è stata anche qua una gara molto combattuta sembrava quasi una gara su strada perché erano in tanti davanti a giocarsela gara che ha visto davanti all'inizio che ha provato ad andare fuori Martin Vidal che poi però è stato ripreso invece Blevins che era il numero uno che aveva vinto l'altra prova di Coppa del Mondo a inizio gara ha fatto una caduta banale su una marcia a piede l'ha preso male, è caduto quando poi si era alzato aveva addirittura il manubrio della bicicletta girato quindi si è dovuto fermare un attimo il sistema radice e poi è ripartito e ha dovuto rimontare dall'ultima posizione fino a poi ad arrivare in circa sulla ventesima ha dimostrato tanta gamba, avrebbe sicuramente fatto bene se era là davanti ma un errore in inizio gara così l'ha tagliato fuori fino da subito gli specializzano comunque dato spettacolo come vi accennavo prima con Martin Vidaur e non solo con Viktor Koretsky Viktor Koretsky che ci ha provato anche questa volta al penultimo giro è scattato, era davanti in solitaria sembrava poter vincere fino a un certo punto al fine gli è saltata la catena non sappiamo come con il suo XX cosa sia successo dietro però nel gruppetto c'era un gruppetto trainato da Filippo Colombo, Alan Atterly e Simon Andreassen hanno ripreso Koretsky Koretsky è riuscito a sistemare la bici e di cattiveria è rientrato dentro Colombo ha provato a insistere nella sua azione ma non si sono accorti che c'era un certo Simon Andreassen che era là dietro, è riuscito ad andare davanti nel momento chiave dove c'erano tutti i salti e poi in volata Koretsky ci ha provato a sorpassarlo ma non ce l'ha fatta quindi a vincere la sua seconda prova di Coppa del Mondo in carriera è stato Simon Andreassen davanti a Viktor Koretsky e a Filippo Colombo e con questo abbiamo finito le gare della settimana prodotto della settimana oggi sono qua per rimostrarvi i caschi che utilizzo quindi l'Ecoia R14 vi ho detto un casco della Madonna secondo me molto aerodinamico, molto bello da vedere un design che ormai ha qualche anno però è tuttora attuale un casco che si può utilizzare tutti i giorni e tantissime squadre lo stanno utilizzando e l'altro è il Van Riesel RCR un casco molto aerato, molto bello con questi fori che troviamo anteriormente e comunque un design studiato in Galleria del Vento in questo caso quello bianco ha la tecnologia MIPS quindi abbiamo una sicurezza in più non vi ho accennato prima della sicurezza però anche qua i caschi hanno fatto passi, tanti passi avanti un esempio è la tecnologia MIPS che è fatta apposta per smorzare gli urti quando andiamo a terra non so se si nota ma qua si muove leggermente il casco se andiamo a simulare un impatto questo piccolo movimento ci potrebbe salvare la vita altri marchi stanno sviluppando delle tecnologie sempre più nuove tipo ECOI, c'ha il Keyroad casca, una tecnologia SIM che si chiama Multipot quindi il casco è diventato sempre più sicuro ovviamente per chi sta guardando il video su YouTube qui sotto vi lascio il link in descrizione ai due caschi che avete appena visto e vi consiglio di andare a seguire il mio canale Telegram Ciclismo Sconti perché ogni giorno trovate delle offerte dove potete portarveli a casa a dei prezzi bomba soprattutto per quanto riguarda l'ECOI R14 ci sono dei giorni che si trova in certe colorazioni dei prezzi bomba quindi vi consiglio proprio di andare a darci un'occhiata e siamo arrivati a fine video, a fine podcast se non l'avete ancora fatto vi consiglio di andare a dare un'occhiata al mio sito www.dssightling.com se non vi siete ancora iscritti al canale YouTube vi consiglio di andare a iscrivervi e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e stessa cosa anche su Spotify e detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao